Trent'anni fa la rivoluzione iraniana che portò al potere gli Ayatollah, il servizio di Tiziana Ferrario. Il primo febbraio del 79, l'Ayatollah Khomeini torna in Iran dopo 14 anni di esilio a Parigi, ad accoglierlo 3 milioni di persone in festa. Due settimane prima lo Shah era stato costretto a lasciare il paese. Al posto della millenaria monarchia persiana si instaura un governo islamico a guida religiosa. E' l'inizio di un lento isolamento politico dell'Iran e dalla comunità internazionale. Sono passati 30 anni da allora dalla rivoluzione iraniana. I libri di Farian Sabah, storia dell'Iran e quello di Alberto Negri, il turbante e la corona, cercano di ricostruire il presente analizzando il passato per spiegare l'Iran di oggi, ingombrante potenza scita alla ricerca del suo ruolo nello scacchiere medio orientale. L'arrivo di Obama alla Casa Bianca potrebbe aprire una nuova fase. Da una parte i vertici della Repubblica Islamica vorrebbero vedersi riconosciuto il ruolo di potenza regionale, ma d'altra parte la leadership iraniana non ha tutto questo interesse nel ricucire con Washington, perché in questi anni la contrapposizione con gli Stati Uniti è diventata uno dei suoi elementi identitari. E quindi riavvicinarsi all'America vorrebbe dire, in un certo senso, rinnegare gli ideali della rivoluzione. Obama ha fatto intravedere nel suo discorso che non c'è una lista dei buoni e dei cattivi, come aveva fatto Bush in precedenza, forse ha preso atto di una realtà, quella dell'Iran che è incontornabile in qualche modo in Medio Oriente, però molto dipenderà anche dall'evoluzione della politica interna iraniana, se ci sarà la possibilità di un dialogo. Grazie. 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 Grazie.